E per il mio occhio denaro è una fortuna come così per un tredizio legato alla particola batteria che ha lasciato sempre gli altri, che ha per farne una patria e che lascia un prestizio, ma non diventi una mania e che chiede la salute che sempre se ne sia per te, per lui e per gli altri, per la nostra compagnia ma non è forse andata bene, non è perché quello è o lasciato una pancia e una suporta dietro tornerà E per prenderci a fino alto la cronofolia a questo ultimo per l'anno, ma ci sta trattando via alziamo le nicchierie, che durazione sia per l'anno, ma ci sta trattando via e per l'anno, ma ci sta trattando via e per il mio grande amore, che ci sia o non ci sia e che cresca come un fiore in città e periferia e volando ai musicisti che suonano già a colore se non fosse per il nostro ballerei fino all'albore e non manchi mai la voglia di grattare tra la gente qualche faccia strana e buona per non ha le confidenze che finiscono con la bocca della gente più sbagliata e lui che sarebbe eliminato, si trasforma in bastonata e lui che sarebbe eliminato la cronofolia a questo ultimo per l'anno, che ci fa la compagnia alziamo le nicchierie, che durazione sia per altri cento anni di salute d'allegria e poi finiscono con la bocca di euforia a questo ultimo per l'anno, che ci sta trattando via alziamo le nicchierie, che durazione sia per altri cento anni di salute d'allegria alziamo le nicchierie, che durazione sia per altri cento anni di salute d'allegria grazie